grande show ieri sera a studio 5 il programma di alfonso signorini in onda in prima serata su canale 5 gli ospiti più attesi belen rodriguez e stefano de martino hanno dato il meglio di sé simpatici ironici e divertenti con una bella belen che spicca nettamente di fronte al suo compagno sempre bellissima e in ottima forma per iniziare la proiezione di un video che ritrae il loro primo incontro nel 2012 nello studio di maria de filippi all'epoca stefano stava ancora con emma marrone poi la coppia regina del gossip scalda l'atmosfera ballando un sensualissimo tango che termina tra gli applausi e la stegno ovation del pubblico poi i due si accomodano sugli sgabelloni di alfonso signorini pronti a soddisfare le curiosità signorini gioca al giornalista scomodo mostrando una serie di filmati dannata in cui una giovanissima belen quasi sempre in nigeri racconta del suo passato da modella e ragazza immagine in discoteca ma la coppia è pronta e regge il gioco perfettamente complimenti